Ciao amici di Made in Vino, siamo qui per presentarvi il nostro team formato da due fantastici sommelier, Cristian, Filippo e Stefano il nostro fondatore. Per i prossimi mesi vi aspetteranno selezioni e degustazioni eccezionali. In anticipazione per il prossimo mese? Ti facciamo vedere ma in mega anteprima questo Montepulciano di Masciarelli, state collegati ci saranno delle belle sorprese. Ciao!